Il Gela inizia con il botto. La rinnovata dirigenza bianco-azzurra si presenta ai tifosi con quattro acquisti di spessore. Calciatori di provata esperienza, abituati a lottare per vincere questo giorno di campionati. Dall'Enna, fresco vincitore del torneo di eccellenza, arrivano l'attaccante Salvatore Cocimano, 19 gol la scorsa stagione, il centrocampista Alfonso Sessa e i difensori Giuseppe Zappalà e Salvatore Tosto. Così come chiedeva il tecnico Andrea Pensabene, ovvero calciatori che lavorano da professionisti ed in questa categoria sanno come si lotta e come si vince. Ed il mercato è appena iniziato. Il direttore sportivo Alessandro Bonaffini sta adesso lavorando anche sui rinnovi. È giusto dare continuità a quello che di buono è stato fatto la scorsa stagione perché non dobbiamo buttare all'ortiche quello che veramente la scorsa stagione è stato fatto. Perché l'obiettivo mio era iniziare a programmare dalla scorsa stagione e poi step dopo step che lo step successivo quello mio nel programma era quello di poter cercare di migliorare la squadra nel mese di dicembre. Questo poi non mi è stato concesso però credo che la squadra abbia mantenuto un'intagliatura, un organico, una base importante e credo che si può ripartire da questi ragazzi. Più semplici quelli dei Gambuzza di Martino, meno invece i rinnovi di Damiano Lo Giudice, Pedro Martinez e Xavi Resuf. Per questi ultimi due ci sono sirene di serie D. Non è facile trattenere i giocatori ma non tanto per il progetto perché magari i ragazzi hanno la voglia, giocatori che lo scorso anno si sono messi in mostra come Pedro, come Da Silva, come Xavi. Sono dei giocatori importanti che ho avuto la fortuna di portarli qua pur non essendo facile però nello stesso tempo i ragazzi mi hanno ricambiato e hanno la voglia di andare a giocare in squadre importanti. Però farò di tutto per trattenerli perché qua i ragazzi si sono trovati bene quindi credo che questo entusiasmo mi possa aiutare a trattenerli. Intanto Pietro Tomaino ha firmato con i niscemi mentre nel Gela adesso stanno circolando altri nomi che sono autentici botti di mercato. Piacciano infatti e non poco il bomber Luca Savasta, cannoniere regione B di eccellenza con 20 gol con la maglia del Modica ed il gelese Vincenzo Tuccio lo scorso anno a Ragusa. Ed il mercato è appena iniziato.